Nei boschi ho imparato a riconoscere l'uomo Selvac. Scrivete le parole che avete incontrato, quelle che erano lì nel bosco, erano molte parole. C'erano parole veramente perché facevano parte di un'opera, ma ci sono altre parole che semplicemente abbiamo incontrato. L'ho cercato e l'ho ritrovato. L'uomo selvatico è vivo, come te. Salve. Grazie. 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 Grazie.